Non si sente parlare spesso di mostri che vivono vicino alla propria casa. Ma è esattamente quello che è successo. Secondo un articolo pubblicato su un giornale tedesco, alcuni bagnanti sono stati attaccati in un lago nei pressi di Berlino. Non è certo un posto esotico. Un mostro che vive a una decina di chilometri da una capitale europea nel ventunesimo secolo. Sarà vero? E' un'occasione dal non lasciarsi sfuggire. Sto già preparando l'attrezzatura. Ho dei sospetti sull'identità del colpevole. Se non mi sbaglio, si tratta di un pesce che gode di una pessima reputazione, sin dal medioevo. Eccolo, eccolo, eccolo! Eccolo, eccolo, eccolo! Eccolo, eccolo! Grazie a tutti.